buongiorno a tutti voi e bentornati in questo nostro nuovo video vi presentiamo il funzionamento della clessidra a sabbia abbiamo tre differenti clessidre con contenuto differente di sabbia ce n'è una che ha più sabbia una di meno e una ancora di meno vedremo che la durata del tempo di svuotamento della clessidra dipende dal diametro del forellino centrale che fa passare la sabbia quindi possiamo avere contenuti differenti di di sabbia però il risultato può essere il medesimo ci sono clessidre che funzionano per un minuto mezzo minuto tre minuti cinque minuti dipende dall'utilizzo che se ne vuole fare adesso vediamo un funzionamento la clessidra sinistra contiene più sabbia quella centrale se riusciamo a farla star su contiene un contenuto di sabbia medio e quella destra meno sabbia adesso sta scendendo la sabbia e vediamo che la clessidra con più sabbia a sinistra si sta svuotando più rapidamente rispetto le altre due grazie per l'attenzione speriamo di essere stati utili e se volete iscrivetevi al nostro canale grazie e buona giornata grazie a tutti 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 Grazie a tutti